La parola che non muore, la parola che è viva, la parola di Dio. La parola di Dio è una parola che crea, ci genera, ma ci dà forza nel nostro cammino. E allora, fratelli e sorelle, vogliamo ricordare quelle parole che lo stesso Zaccaria, il papà di Giovanni, libero e ormai pieno di gioia, ha declamato dopo la nascita del bambino con l'inno del Benedictus, il quale proprio ha detto così, ha preferito queste parole, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e arredento il suo popolo. È venuto il Signore, arredento, ha salvato il suo popolo. Allora, fratelli e sorelle, vogliamo oggi inneggiare e dire grazie e lode al Signore, ecco, di questo grande testimone, di questo grande uomo, Giovanni Battista, e chiediamo al Signore, perché nel corso della nostra vita, nel corso della nostra storia, possono venire o possono esserci altri testimoni coraggiosi. Ma Giovanni ci indica e ci chiede anche a noi di fare lo stesso, di essere dei buoni testimoni, dei buoni annunciatori delle meraviglie del Signore. E quale grande meraviglia è questa, fare un dono così grande, un figlio, un figlio con una missione inaspettata, grandiosa, salvare, preparare il mondo per accogliere il Messia. Così sia.